Ciao a tutti qua dall'angolo di Minecraft con Ishquiz! Cominceremo anche quest'altro nuovo Let's play Castle Crashers! Partita locale, va incominciamo Castle Crashers, devi venire più vicino, sennò non ti si rendono, premia, assaggire che ti scegli, non lo so, 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 Quello, ecco! Vai, uggio il rosso, dai! Ah, vero, start! Cominciamo la storia! Eh, tuzze, tu... Eh, è sempre Rocker, te l'ho detto, tu fai il coglione! Ah, 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 ah Che cazzo è? Gli animali qua E te carichi a fare la vita Siamo in giacarichi Vabbè Questa è la pozione Piatela Piatela Ok ce l'hai Andiamoci Un po' me ne vado io L'incappucciando Guarda quel maschile Mettelo piccolo culo Chi mi ha chiamato? Che cazzo è questa cosa? I'm a red bitch Come ti fa? Red bitch Ma qua c'è un gioco Ok Non lo sai fare tu Capriola Non lo sai fare Zitto Due Due Ah Accusate Forza Siamo seduti con i gatti Vieni Non è forza Yes Yes Di qui Money I want big money Forza I want big money I want big money I want big money I want big money forza! apri di sesamo! buonasera! e ce ne sono tutti! è vero, la magia è mia! mi sono dimenticato! indossichi a tutti, mi sa! indossichi! mondus agel anima! ma stai per terra stani! i miei mummi cadono per terra! va beh c'è un qualcosa! va proviamo, guardate! eh di cosa stai mi muoviti! ma prova oh la cazzo hai fatto eh mi serviva si pure questo mi serviva guarda là fangolo buonasera andiamo a cambiare le armi subito oh fermo non sto facendo niente eh guarda ah si scusa perché si era bloccato qua no sei tu hai capito quella che serve la bussola oh eh io so quale PA eh quella no doveva andare più avanti il broccolone bravo sappiamo già perché già abbiamo incominciato un let's play una volta andato schifo quindi i broccolones andiamo a prendere il mio padre come arma tronzo due no x è sposa che questo no dove vedi dove sono in piedi e quindi così affanculo vai I want a big joy, forza Feed me I want to go I want to go I want to go I want to go ti dà la testa come fai? come fai? c'è una sacca di diversi guarda guarda gli altri c'è d 1 4 4 4 4 la verena c'è un'elettricità zoom tu c'è una nuova combinazione c'è uno ah no, con salto salto in buco parola e vedo un'altra è più forte quella è più forte è più forte la tua oggetti se fai salto salto si fai salto 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 eh c'è questo come on baby e prende l'arco no sull'arco eh devi trovare quando ho visto devi trovare cose devi trovare via l'arco via l'arco devi trovare una cosa per caricarteli non mi uso la pozione ma che pozione rilascia una cosa per caricare scusa cazzo c'è il boss c'è primo boss mi pare tra poco che stracere totale vai no 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 a posto vai vai 2 si ti devi avvicinare sennò non ti senti 2 ah 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 mi chiodo mi chiodo schifatown america america la cittadina oh si ammazzi si ammazzi a quelli che escono modi pigli la vita capito questi qua se ne ammazzi può pigli un sacco di vita pigli vai cazzo nato uuuu 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 No Porca e la maledetta porca Vieni qua attacca questa cosa, vai, l'abbiamo ammazzato, vai Sta andando, mi hanno trattato in giro per me E ora dovrebbe usci la cosa Mo si vuole sicura No Andiamo No, 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 aspetta Vai, vai Spero che voi si danno vita, mo Eh, cazzo a culo, si, ah Guarda No 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 Ah, sono ancora questa Vai Dai Vieni Ah, che ha fatto? Ti sei curato Perché? Eh Vabbè, ora c'è la scluta i video No 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 Vabbè Livello 3 pure Livello 3 pure io Ah Vai Vabbè Vabbè Come un bape Vabbè Vabbè e un cappolo erai bec finito se mi ciò vede bene la storia alto per te eh, scarica 3 per me vai vai non so dove sto, ecco eh, questi danno la cura, vedi? oddio ma che fa? ma se mi convinceranno? il rescigno schiava tutto oddio oddio c'è stata la la vita, l'abbiamo stroppiato oh no vedi che scende? eh eh zitto, cazzo mi ridi via 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 ma è schifo no non stico se siete tra domandi vai vai no 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 lascia la fa' distrutto tuzze 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 bones pigliatutto 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 super round one fight you suck pigliatutto io paro ma da oh Ah BASSA! stronzo! scappa! 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 sarò morto! arciere! e lei fai x! combatti alla donna! fai x! non me ne foda! hai sbloccato il forever alone! qua faccio forever alone così via puoi cambiare noi! puoi cambiare? possiamo cambiare dei personaggi si puoi cambiare! però non c'hai il potenziamento come facciamo ora! metto tutti i guanti! ok ragazzi ok ragazzi per questa prima puntata vada benissimo alla prossima! saluta! ciao a tutti! qui una via! a tutti! ciao a tutti! ciao a tutti!